Il CONI è sempre presente in queste iniziative perché una delle nostre mission è proprio la promozione dello sport come modello di vita, ma modello di vita sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista etico, morale, dal punto di vista di difesa dell'ambiente, dal punto di vista dell'impatto con il turismo. Ricordo che dal punto di vista dell'economia il movimento sportivo garantisce presenze turistiche e soprattutto garantisce una visibilità e un'immediata circolazione dell'immagine positiva di una città in tutto il mondo.